Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Cessna di Razzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo suonare per il mezzogiorno. Lo frantan posso vedere, questo è il campanone, questa è la mezzogna, adesso ascolteremo il battiore sul campanone per la distesa del campanone. A presto, da un paio, ascolto a tutti. Ciao! Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.